L'operazione di oggi dei carabini del comando provinciale di Palermo ha inferto un duro colpo al mandamento di Ciaculli, un mandamento storicamente governato dalla famiglia Greco, un mandamento che non disdegna ancora oggi di mantenere salde le tradizioni di Cosa Nostra, sul controllo del territorio, sulla gestione delle arque, ma soprattutto sulla sensaleria, nella compravendita del terreno. Una mafia che mantiene ancora i legami sul territorio attraverso il controllo dei terreni, il controllo dell'irrigazione, ma che comunque non disdegna di guardare altrove a quelli che sono i nuovi investimenti, a quelli che sono le scommesse clandestine e il traffico internazionale di stupefacenti.